Prima di continuare sui nostri moduli, ma se tu consideri per esempio nella sonata di Mozart in Do Maggiore che quando lui riprende la reesposizione in Fa, anche se è attivo, nel senso che se lui aveva fatto sol, però se tu sei in contatto con l'inizio e che fai questo, il modo di suonarlo, sapendo che fa parte del passato della tonalità madre, non te lo fa suonare con l'extroversione che avrei suonato. Se lui aveva fatto la reesposizione in Sol, dunque in una quinta extroverta, il Mi Becar lo trovi nel futuro di quello che viene nella nota, nelle armoniche. Invece il Mi Bemol non lo trovi mai nella nota, lo puoi trovare solo nelle quinte introverte. Il fatto di avere come sistema di referenza il minore per una grande parte del tempo, abbiamo questo... più profondo fino alla bassa... ... ... ...